Grazie Presidente, buongiorno a tutti gli intervenuti. Vorrei ringraziare in particolare il Presidente Bernardinis e l'ISPRA per l'invito che mi è stato rivolto di presentare le attività sul suolo a livello dell'europeo, dell'attività della Commissione europea. L'anno scorso partecipare a un evento analogo per la presentazione del rapporto ISPRA sul consumo di suolo e fu alla Sapienza. Quest'anno siamo nella sede prestigiosa del Parlamento italiano, indica una cresciuta consapevolezza anche a livello politico dell'importanza delle questioni suolo. Vorrei prima di tutto fare una breve introduzione sugli aspetti generali e gli aspetti di degradazione del suolo a livello europeo per poi andare un po' più nel dettaglio sul monitoraggio e sulle politiche che stiamo mettendo in opera per affrontare il fenomeno. Per quanto riguarda gli aspetti generali, è già stato detto, ma magari per ricordare che l'importanza del suolo è triplice, certamente da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista economico e sociale. La FAO stima che più del 99% delle calorie alimentari abbiano origine dall'ambiente terrestre. Magari se fossimo in Giappone la percentuale potrebbe essere leggermente diversa, ma a livello mondiale è soprattutto l'agricoltura, quella che produce il cibo del quale ci nutriamo. L'agricoltura è anche un settore economico estremamente importante. Sono circa 25 milioni di persone coinvolte nel sistema agricolo a livello europeo con un fattorato di quasi 400 miliardi di euro all'anno. Quindi molto importante l'agricoltura, anche gli aspetti della produzione forestale, il settore economico. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, è già stato ricordato, un ettero di suolo può assorbire fino a 400 millimetri di pioggia e quindi riveste un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda la mitigazione di eventuali fenomeni di siccità, ma anche per quanto riguarda l'assorbimento che evita fenomeni alluvionali. Biodiversità, i ricercatori, gli scienziati ci dicono che grossomodo si stima un quarto della biodiversità globale a livello mondiale è nei suoli, quindi è sotto i nostri piedi. Biodiversità che non ha soltanto un interesse così ambientale, ma dagli organismi del suolo si traggono anche medicine, antibiotici, che poi sono fondamentali per la protezione della nostra salute. Ultimo aspetto, ma non meno importante, a livello europeo si stima che nei nostri suoli siano stoccate tra le 70 e le 75 miliardi di tonnellate di carbonio organico. È già stato fatto l'esempio prima di cosa vuol dire questo carbonio organico, una perdita dello 0,1% di quelle 70-75 miliardi di tonnellate, sono grossomodo 100 milioni di autovetture in più sulle strade europee, quindi un'importanza fondamentale sia per la mitigazione e anche per l'adattamento al cambiamento climatico nel fattore suolo. Il tema di oggi è il consumo di suolo. Quando la Commissione presentò nel 2006 la strategia tematica per la protezione dei suoli, gli aspetti consumo o impermeabilizzazione dei suoli era certamente presente, però mi piace ricordare anche altri fenomeni di degradazione, altri aspetti che dovrebbero essere considerati. Certo, il consumo di suolo è quello più drastico, perché è una perdita in pratica irreversibile del suolo stesso, ma i fenomeni di erosione, la perdita di materia organica, la salinizazione dei suoli dovuta a pratiche irrigue non adeguate, il fenomeno delle frane e la contaminazione, quindi protezione suolo è certo limitare il consumo, ma anche occuparsi di fenomeni di degradazione che vanno al di là del consumo stesso. Giusto per darvi l'idea, questa è una carta sulla base di un modello sviluppato dai colleghi del Centro Comune di Ricerca della Commissione, che ha sede a Ispra, in provincia di Varese, nel nord Italia, è una mappa sull'erosione dei suoli. Sono più di un milione di chilometri quadrati che sono affetti da erosione e il 20% di questi 1,3 milioni di chilometri quadrati ha un'erosione che è più di 10 tonnellate per ettaro all'anno. Si stima che la rigenerazione naturale dei suoli sia intorno a 1-2 tonnellate per ettaro, quindi 10% è una perdita di volume e quindi è una perdita essenzialmente irreversibile con ricadute anche su quello che riguarda la fertilità e a valle la necessità di dragare fiumi, porti per poter avere accesso alle strutture portuali. Per esempio a Rotterdam sono 30 milioni di tonnellate di sedimenti che devono essere dragati ogni anno con anche un costo dovuti certamente a fenomeni erosivi naturali, ma anche un contributo antropico nella maniera in cui vengono utilizzati i suoli a monte. Secondo aspetto, la materia organica. Materia organica importante, come dicevo prima, per quanto riguarda il legame con i cambiamenti climatici o la mitigazione dei cambiamenti climatici stessi, ma è anche fondamentale per la fertilità dei suoli. Materia organica vuol dire humus, vuol dire struttura del suolo, vuol dire permettere la crescita delle piante, vuol dire assorbimento dell'acqua, delle acque piovane. E' qui una componente fondamentale della struttura del suolo, una componente fondamentale per i servizi ecosistemici, ma anche per i servizi economici. E ci sono ovviamente delle variazioni naturali dovute alle differenze climatiche. Il nord Europa più freddo, più piovoso e con suoli anche organici, torbiere, dove la materia organica è elevata. I nostri suoli sono più poveri di base per via di temperature più elevate, piovosità ridotta. Ma come si utilizzano i suoli? Soprattutto la divaricazione moderna tra i sistemi di coltivazione, per cui seminativo da una parte, zootecnia dall'altra, non si porta più, non c'è più una compenetrazione, quindi un utilizzo delle sostanze organiche, una chiusura dei cicli, e si hanno zone di forte inquinamento, per esempio a causa dei nitrati, e zone dove la materia organica invece diminuisce notevolmente, perché non c'è questo apporto dove le pratiche agricole non seguono. Ma questo nel breve periodo può anche essere tollerato, ma nel medio e lungo periodo ha degli effetti deleteri sulla possibilità del suolo di esplicare le sue funzioni. Ultimo aspetto, al di là del consumo, è quello delle frane. Anche qui, certamente, l'orografia e la topografia del territorio ha un aspetto rilevante nella rischiosità, nel rischio che ci siano frane, ma come utilizziamo il nostro territorio, e come utilizziamo le nostre montagne, le nostre colline, il disboscamento, l'abbandono del territorio, i terrazzamenti, sono tutti fattori che possono influire in maniera negativa, in maniera positiva, anche su questo fenomeno. Quindi, giusto per dare un'idea del fatto che il consumo sia qualcosa, il consumo di territorio e di suolo, sia qualcosa di molto importante, ma ci sono anche altri aspetti che dovrebbero, allo stesso tempo, essere considerati in un'ottica organica. Aspetti di monitoraggio. Michele ne ha già parlato. Ovviamente a livello nazionale ci sono, e particolarmente a livello italiano, ma non solo, ci sono fonti molto più dettagliate e variegate. A livello europeo, è sostanzialmente nell'ambito del programma Copernicus, la componente di monitoraggio territoriale è il sistema Corrine Land Cover, iniziato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente già negli anni 90, in cooperazione con le agenzie nazionali. Ci sono 39 paesi, quindi non è soltanto l'Unione Europea, sono i paesi membri dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che coprono i 28, ma vanno al di là. Corrine Land Cover ha avuto negli ultimi anni e l'idea di continuare ad avere per il futuro una cadenza ogni sei anni, quindi l'ultimo rilevamento è stato nel 2006, cioè nel 2006 poi nel 2012, il prossimo previsto nel 2018. Corrine Land Cover ha una classificazione intorno a 44 diversi usi e coperture del suolo, ma quello che è importante sottolineare è che la risoluzione del sistema stesso non è super dettagliata, ci vuole un compromesso tra costi, possibilità tecniche e livello di dettaglio. Quindi l'unità minima di campionamento sono 25 ettari, cioè una struttura più piccola di quella taglia non viene vista dal sistema, allo stesso per quanto riguarda gli elementi lineari che devono avere delle dimensioni trasversali notevoli. Questo lo dico perché poi i dati che andrò a mostrare non corrispondono con quelli presentati da Michele prima, perché il livello di risoluzione a livello europeo è più limitato. Come viene fatto? Corrine essenzialmente sono fotografie satellitari, un mosaico di fotografie che vengono gestite a livello delle singole agenzie, poi messo in comune a livello europeo per coprire tutta la superficie territoriale e per poi valutare sia la situazione nell'anno X, ma anche la variazione rispetto ai rilevamenti precedenti. Nell'ambito del programma Copernicus c'è tutta una serie di prodotti, uno appunto questo Corrine Land Cover a larga scala, ma poi anche delle immagini e una valutazione dei fenomeni di consumo di terreno e di suolo molto più spinta, sia nel contesto dell'Urban Atlas, sono 300 agglomerazioni urbane dove c'è una valutazione estremamente dettagliata dei fenomeni di espansione urbana, sia per quanto riguarda un high resolution layer, quindi una valutazione spinta dei fenomeni di impermeabilizzazione e tutta un'altra serie di prodotti che verranno messi a disposizione una volta che la valutazione dei dati sarà stata completata. Al momento l'Agenzia Europea dell'Ambiente sta mettendo assieme, valutando, facendo il controllo di qualità dei dati raccolti nel 2012. Quali sono i dati che abbiamo al momento? La valutazione è che a livello europeo, su base dei dati Corrine Land Cover, nel periodo 1990-2000 ci sia stato un consumo di suolo pari a circa 1000 km2 all'anno, sono 275 ettari al giorno, voi vedete già con la cifra data prima di circa 70 a livello europeo, circa 80 in Germania, le cifre non sono comparabili, il vantaggio però del sistema Corrine Land Cover è che ha dati armonizzati e comparabili su scala europea, quindi possiamo effettivamente vedere qual è l'evoluzione attraverso i diversi paesi. 1000 km2 all'anno sono grossomodo la superficie della città di Berlino, un po' più della superficie di Berlino, un po' meno della superficie dell'area metropolitana di Londra, che è stato consumato a livello europeo in un anno, su 10 anni è circa la superficie di Cipro e la valutazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente è che l'85% di questo consumo sono terreni agricoli e terreni agricoli essenzialmente fertili, perché i romani costruivano le città in mezzo dove c'è un fiume, è dove c'era un'area fertile che potesse alimentare la nascente cittadina, l'agglomerato e perciò le nostre città si espandono a scapito di superficie agricola fertile. Il dato, ripeto, sottostimato ma che permette di valutare, di fare comparazione a livello europeo è che la superficie impermeabilizzata nel 2006 a livello europeo era equivalente al 2,3% del territorio, per l'Italia 2,8%, superficie impermeabilizzata quindi proprio dove c'è la copertura, non l'area urbana dove ci sono anche giardini, parchi, eccetera, ma proprio gli edifici, le strade, strade di asfalto, di cemento e quindi la media italiana o il dato italiano superiore a quello che è la media europea. Stessa cosa ma in maniera grafica, a sinistra, la cartina di sinistra è l'aumento relativo delle superfici artificiali, quindi dell'urbanizzazione nel periodo 2000-2006 a destra invece sono le superfici impermeabilizzate nell'anno 2006 quindi a sinistra è il trend in un periodo di sei anni e a destra è lo statico, qual era la situazione nel 2006. Credo che si possa dire che la cartina di sinistra ci fa un po' vedere le bolle immobiliari spagnole e irlandesi cioè una costruzione relativa, quindi un aumento relativo anche del 20-25% in un periodo di soli sei anni dove la cosa diventa magari ancora più interessante è che se voi vedete a sinistra anche l'area del Benelus quindi Fiandre, Paesi Bassi ci sia un aumento forte delle superfici artificiali nel periodo 2000-2006 su una base, cartina di destra che è già fortemente antropizzata è fortemente coperta e quelle sono effettivamente delle zone dove si debba andare a valutare l'estento dei fenomeni per quanto riguarda l'Italia data la risoluzione che è quella grossomodo a livello provinciale si perdono un po' i fenomeni dei quali parlava Michele prima quindi si vede la concentrazione in parte la concentrazione urbana in certe aree si vede la concentrazione nella pianura padana si perde un po' quello che è la concentrazione degli elementi di costa perché se si aggregano i dati su base provinciale e poi regionale si perde il dettaglio ma comunque anche il fenomeno italiano si parte per certe regioni per certe zone del paese già da un elevato tasso di impermeabilizzazione dei suoli con anche un accrescimento nel periodo considerato come dicevo prima questi però sono dati per difetto ci permettono di fare questa valutazione a livello europeo e quindi tra diversi paesi ma poi i mille chilometri quadrati che stimiamo annui europei nella realtà sono molti di più perché si perdono tutti quelli che sono piccole agglomerazioni poche case sparse strade, stradine, stradette che non vengono catturate da Corrin Land Covery la tutela dei suoli qual è la situazione dal punto di vista politico-giuridico dicevo prima nel 2006 la commissione presentò una strategia tematica per la protezione dei suoli che si articolava intorno a si articola si articola intorno a 4 pilastri 4 elementi principali uno è la sensibilizzazione quindi informare il pubblico ma informare anche i decisori politici sull'importanza del suolo per gli aspetti economici sociali e ambientali di cui si diceva prima un aspetto ricerca quindi approfondire le conoscenze i dati su qual è la situazione i diversi fenomeni che caratterizzano l'utilizzo del suolo l'integrazione della protezione dei suoli nelle politiche europee trasporti agricoltura energie e poi un aspetto legislativo non c'è nessuna direttiva nessun regolamento che a livello europeo sia dedicato specificamente alla protezione dei suoli abbiamo legislazione protezione acque natura la direttiva habitat il sistema natura 2000 certamente la qualità dell'aria la qualità delle acque potabili gestione dei rifiuti tutta una serie di legislazioni in campo ambientale per questi vari settori ma per il suolo non c'è niente l'unica direttiva che si occupa di suoli è quella che riguarda lo spandimento dei fanghi di depurazione urbana in agricoltura è l'unico elemento a livello europeo che si collega abbastanza direttamente alle tematiche suolo ma di coerente non c'è ancora niente l'obiettivo della strategia tematica era duplice favorire un utilizzo sostenibile dei suoli e allo stesso tempo proteggere le funzioni del suolo stesso funzioni che sono le più varie dalla produzione di biomassa quindi una funzione economica al filtraggio dei nutrienti stock di carbonio gli aspetti archeologici tutta una serie di funzioni che il suolo esplica che dovrebbero essere protette il maggior numero possibile di funzioni per il maggior numero possibile di suoli con la proposta di direttiva che voleva colmare questa lacuna legislativa proposta che è stata adottata alla commissione nell'ambito della strategia tematica nel 2006 e che però non ha ancora visto la luce e che ahimè la commissione sta considerando di ritirare perché dopo quasi otto anni di discussione nonostante il Parlamento europeo abbia votato a favore nonostante ci sia una maggioranza numerica di stati membri tra cui l'Italia che l'appoggiano però al consiglio non c'è la maggioranza qualificata che permetta di adottare la direttiva e quindi siamo in una situazione di stallo a dicembre dell'anno scorso poi è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 dicembre il consiglio e il Parlamento hanno adottato il settimo programma quadro d'azione ambientale che copre gli anni quindi 2014 e 2020 che sono gli stessi del bilancio europeo vivere bene tra i limiti del nostro pianeta il programma d'azione è diviso in un certo numero di obiettivi prioritari il primo è quello sulla protezione conservazione e miglioramento del capitale naturale dell'Unione compreso capitale suolo compreso il capitale territorio compreso il capitale terreni dove si dice che il degrado dei suoli è qualcosa che compromette lo stato ambientale dell'Unione che quindi debba essere affrontato si ribadisce la necessità di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2050 di suoli si auspica e si invitano gli stati membri a discutere urgentemente per arrivare a un quadro giuridico vincolante per quanto riguarda la protezione dei suoli e poi la necessità di continuare a lavorare su non solo il consumo di suolo ma anche contrasto all'erosione favorire il mantenimento delle materie organiche occuparsi dei siti contaminati quindi di quello che il presidente Bernardini diceva prima anche di una mala gestione di rifiuti ma in generale siti contaminati e il pregresso della storia dell'Europa qualcosa che debba essere affrontato c'è un secondo ci sono tutta una serie di obiettivi prioritari c'è anche il numero 8 che riguarda la sostenibilità urbana dove si evidenzia in particolar modo credo fosse il presidente Relacci che lo menzionava prima l'aspetto del recupero c'è bisogno certamente di uno sviluppo di costruzione di infrastrutture e costruzione di spazi abitativi c'è però anche tutta una serie di zone industriali o meno abbandonate generalmente o vicino a eccentricità o nelle eccentricità o comunque nell'immediata periferia già connesse in linea di principio col sistema di trasporti tutte le aree dismesse la valutazione soltanto che non esiste ancora non c'è una valutazione a livello europeo di quante siano queste aree quale sia la loro superficie a memoria cito i dati della Sassonia una delle regioni tedesche sono 900 km quadrati soltanto la Sassonia 900 km quadrati è la valutazione grossomodo dei 1000 km quadrati che vengono utilizzati a livello europeo soltanto la Sassonia avrebbe abbastanza terreni dismessi da poter recuperare da compensare il fenomeno europeo del consumo non ho i dati italiani non so se Ispra ha dei dati a disposizione ma comunque l'importanza del recupero dell'esistente è fondamentale se vogliamo diminuire e a medio e lungo termine bloccare il consumo di terreno particolarmente terreno fertile bisogna andare a recuperare l'esistente e quindi questo obiettivo prioritario che poi si collega anche all'utilizzo dei fondi europei che però bisogna dirlo lo decidete voi cioè voglio dire sono gli stati membri c'è un menu a tendina per l'utilizzo dei fondi europei le questioni suolo gestione del territorio e aree urbane è compreso nel menu a tendina ma quello che venga poi ripreso è una decisione nazionale quindi dove vadano i fondi e come venga decisa l'allocazione a livello nazionale e poi a livello regionale sta in gran parte nelle mani in questo caso nelle mani italiane e il recupero edilizio si diceva prima è anche fonte di di lavoro quindi ha anche una valenza economica non è soltanto l'anime bella ambientaliste che dicono che bisognerebbe limitare il consumo di suolo c'è anche poi un aspetto di volano economico collegato finisco con le mie ultime due trasparenze un po' di pubblicità pubblicità progresso una riguarda due pubblicazioni che abbiamo fatto proprio su queste questioni limitare mitigare compensare il consumo di suolo trovate su una tavola all'ingresso o adesso all'uscita quella a sinistra è più tecnica un po' più dettagliata e si rivolge un po' gli addetti ai lavori quella di destra è una pubblicazione più grande pubblico che sintetizza gli elementi principali dell'altra e ultima cosa il 19 di giugno stiamo organizzando una conferenza su il territorio il suolo come risorsa perché abbiamo in programma una comunicazione quindi un documento politico della commissione per l'anno prossimo 2015 ovviamente questo dipenderà poi dalle decisioni della nuova commissione che si siederà alla fine dell'anno del nuovo commissario ma l'orientamento a livello dei servizi a livello di lavoro è quello di cominciare un dibattito a livello europeo sulla gestione del territorio che comprende certamente gli aspetti suolo ma va al di là è una dimensione spaziale delicato certamente perché sono questioni di competenza principalmente nazionale ma dove l'impatto delle politiche europee basti pensare alla politica agricola comune ma anche a tutto quello che è il discorso delle energie renovabili e dei biocarburanti politica trasporti hanno un impatto e quindi dobbiamo anche noi mettere un po' in ordine la nostra casa la conferenza verrà aperta dal commissario dell'ambiente Janis Potocnik con la partecipazione di un certo numero di oratori internazionali europei e non vedete il link se li volete iscrivere se passate per Bruxelles il 19 di giugno siete benvenuti a partecipare ringrazio per l'attenzione grazie a Luca Marmo prima di tutto chiederei ai parlamentari delle commissioni presenti se vogliono intervenire e prima di dar loro la parola vorrei dire alcune cose e a chiunque ai parlamentari presenti ai colleghi se volete segnalare già la vostra la vostra possibilità di intervento a quella collega bionda che adesso si è ritirata in disparte con un'altra collega bionda dietro l'angolo e non mi sente ma le due colleghe bionde potrebbero raccogliere se voi alzate la mano il nome così ordinatamente essendo vecchietto riesco a dare ordine al dibattito successivo mi ha alzato la palla su due cose su tre in realtà molte altre allora la prima però è un'informazione importante che vorrei dare lascio assolutamente alla parte politica ai vari livelli di governo territoriale il discorso dei fondi non è compito del sistema agenziale di Ispra questo elemento se non dare informazioni informazioni quali tipi di informazioni qua arriviamo al punto secondo in questo intermezzo tra le informazioni c'è anche le informazioni necessarie a determinare le possibilità di recupero che sono senz'altro facili quando tra virgolette quando ci si riferisce ad un'area urbana a dei processi di localizzazione progressiva dal punto di vista culturale dal punto di vista sociale e compagnie varie sono più difficili quando ci agganciamo al discorso fatto prima che è strettamente in interesse del sistema agenziale di Ispra cioè quello dei siti inquinati quello sostanzialmente delle ex aree urbane quello sostanzialmente delle aree urbano-rurali dismesse c'è tutto un discorso che sostanzialmente merita un approfondimento non solo e quello dico ai colleghi scienziati non solo in termini di contenuti ma di organizzazione del processo conoscitivo e quindi del servizio su cui fondarsi l'assunzione di responsabilità che è un punto non banale da molti punti di vista che è soprattutto il compito nostro noi in parte contribuiamo alla conoscenza ma in parte assorbiamo dalla comunità la conoscenza il primo e ultimo alzata su cui farei una schiacciata è un po' più tecnica un po' più tecnico-politica direi è quella del ruolo tra i core services a livello europeo della commissione essendo rappresentante in prima in GMS oggi in Copernicus perché si chiama così è sempre lo stesso ma qualcuno si è inventato che doveva trovare un nome nuovo facevo parte anche dalla commissione anch'io ma io non ho votato per questo è uscito fuori Copernicus poi è stato messo in un cassetto non piaceva a nessuno poi è stato ritirato fuori questo succede a livello europeo non credete mica solo in Italia nel senso e il rapporto tra i core services essendo anche stato chair di un implementation group per l'emergency response in termini che oggi è il primo servizio a pieno titolo non riconosciuto come tale e quello che è il downscaling assolutamente necessario non solo in termini di conoscenza in termini tecnici scientifici ma in termini politici e quindi dei downstream services io mi sono battuto sin dall'inizio sia per i core services perché io ritengo ho sempre ritenuto che l'Europa così come l'Italia se parliamo la scala è la stessa quello che facciamo a livello detto statale di coordinamento di quello che è un livello distribuito cioè a livello regionale deve essere armonizzato in una risposta della Repubblica cioè nazionale ed è questo processo che in realtà in Italia abbiamo grande esperienza si è sviluppato in alcuni settori molto bene che comincia a svilupparsi anche in Europa comincia a svilupparsi partiamo nel 2003 più o meno grosso modo in questo processo e allora deve essere non è ancora completamente compreso a livello europeo ma anche a livello nazionale molte volte da parte anche di bodies di enti europei europei che non si può non è strettamente calabile sulla realtà nazionale quello che invece è uno strumento che io ho sostenuto di condivisione comune di una valutazione omogenea sul territorio europeo per fare delle scelte comuni o delle scelte comparative che sono scelte di politica complessiva della comunità europea che sono scelte anche molto particolari io porto sempre un esempio nella mia esperienza di protezione civile che mi ha segnato moltissimo avendo prodotto esiste un prodotto del GRC che non può essere imposto ai paesi membri ma è stretto estremamente utile che è quello sostanzialmente sulla suscettività agli incendi boschivi nel 2007 chi era responsabile operativo della protezione civile doveva decidere assieme ai colleghi francesi portoghesi e spagnoli se mandare dei canader e chi doveva mandare dei canader spagnoli più francesi e italiani se mandare dei canader in Grecia è la scelta voi ci scherzate non è mica una scelta scientifica è una scelta di responsabilità vi faccio un esempio io prendo dell'allora flotta statale un certo numero di canader e dico che il giorno successivo io posso privarmi di tre canader e li mando a concorrere in aiuto dei greci il giorno dopo mi scoppiano 100 incendi che sono di origine antropica non sono di origine naturale ho 20 morti la prima cosa che mi capita dice quello ha mandato via i canader i morti sono colpa sua vi faccio questo esempio perché vanno poi declinate queste cose fino all'ultimo granellino e allora in quella volta ci riunimmo in videoconferenza prendemmo il prodotto del GRC confrontammo su quello che era scala di 40 km 40 km prendeva tutta l'Europa qual era la suscettività gli incendi in Portogallo in Francia in Italia prevista la confrontammo con i nostri prodotti specifici di piccolissima scala scendevano sotto la scala comunale cercammo di trovare un accordo e decidemmo che ad esempio in quel caso Francia e Italia potevano per i giorni due giorni successivi privarsi e assumersi la responsabilità di mandare un tot di canader in missione in Grecia quella decisione fu sottoscritta non rimase nell'aria fu sottoscritta come responsabilità di discorso condiviso a livello della sovranità degli stati membri faccio questo esempio perché ho dovuto battagliare ad esempio per meto allarme previsioni meteorologiche a livello europeo contributi dai vari paesi e non si sa quali erano le origini se effettivamente era verificato che era all'origine ufficiale esposizione di quelli che erano nei livelli di allerta di nuovo arriva a livello europeo arriva a livello nazionale e succede qualcosa dice ma l'Europa ti aveva detto questo tu mi hai detto questo come mai allora c'è un problema di collocare e definire per scritto quelli che sono gli obiettivi per cui lo strumento europeo è necessario voluto e importante certamente quello delle tendenze in capire le tendenze comuni certamente quello delle decisioni comuni certamente anche uno strumento laddove non c'è altro è uno strumento che oltretutto ci consente di misurare la nostra capacità di ottenere maggiori informazioni faccio un esempio nel lavoro fatto sulla definizione prima volta delle pressioni dell'apporzionamento delle pressioni da nitrati su tutto il bacino padano più il veneto compreso nel bacino padano più il friuli se non vado errato a livello del genere abbiamo visto che ad esempio i dati del corin che abbiamo utilizzato dovevano essere utilizzati con grande attenzione per renderli armoniosi rispetto ai dati Istat per esempio ma ad esempio abbiamo riconosciuto ecco la Gea che la Gea ci dava un contributo di dettaglio che poteva essere matchato al livello che non era necessario senza negare il corin perché il corin era un quadro fondamentalmente nella scala temporale e spaziale come è stato detto che aveva un suo significato più complessivo abbiamo utilizzato l'urban abbiamo utilizzato moltissime di queste cose però valutandole valutandone la possibilità di utilizzazione perché dico questo perché il nostro rapporto con l'Europa è un rapporto importantissimo noi tanto dobbiamo contribuirci quanto non lo dobbiamo subire e io credo di aver stabilito che i colleghi a livello europeo e della commissione un rapporto quasi fraterno però sono sempre stato un pierino non ho mai negato le critiche o le opposizioni come stato membro rispetto a delle scelte che venivano proposte da altri proprio per non per un'immediata soddisfazione paese ma per trovare quell'armonizzazione a livello europeo anche dal punto di vista della validazione dell'informazione dell'informazione a sé stante estremamente importante per le decisioni comune per tornare anche ai fondi europei e anche a decidere fondamentalmente faccio un esempio che la qualità dell'aria nella pianura padana ha delle condizioni al contorno che la commissione dei costi per rientrare nei limiti concordati con la commissione europea che ha dei costi che altri paesi non hanno quindi ci sono delle specificità che in qualche modo anche a livello europeo a partire da Portogallo andando alla Finlandia che è molto preoccupata degli iceberg o di altre cose o della Norvegia che è molto preoccupata degli iceberg e del ghiaccio mentre noi degli iceberg forse non ci interessiamo ma forse ci interessiamo del rischio sismico piuttosto del rischio vulcanico allora portare in Europa questa diversità biodiversità come una preoccupazione comune ma per fare questo abbiamo bisogno di informazioni corrette riconosciute esempi della nostra capacità e noi siamo in grado di fare questo più facciamo sistema più non ci facciamo concorrenza a null'altro più siamo quel sistema nazionale e certamente lo dico per il sistema nazionale per la protezione ambientale agenzie Ispra assieme ma tutti quanti più riusciremo in questo obiettivo consentitemi un ultimo accenno ad un fatto che mi perseguita dal 1989 io voi sapete molti qua mi conoscono io sono nato nella mia folgorazione sulla via di Damasco dopo la Valtellina o parallelamente alla Valtellina e quindi con la legge 183 che tutti chiamiamo la legge della difesa del suolo e a questa è una cosa che io mi sono sempre ho sempre poi accettato operativamente ma mi sono sempre ribellato perché quel suolo messo lì non aveva niente a che fare col suolo di Fabio Terribile col mio suolo era un suolo territorio era un suolo difesa dal suolo del suolo dal suolo non si capiva e io ho sempre usato il comma 2 che era uso e tutela del suolo e delle acque in modo tale che ci fosse nelle mie conferenze ci fosse un'espressione maggiore di quella compiutezza questa portata a confusione tra ambiente e territorio che necessariamente stiamo lentamente chiarendo e questo è uno sforzo comune non possiamo usare dei termini più dei termini come slogan dobbiamo dare il giusto significato a ciascun termine perché se no non ci capiamo più perché mi lega a questo ma per un esempio che molte volte io ho portato ma voi pensate che una frana sia un evento non naturale giustamente è stato detto c'è poi crea dei problemi al porto che si riempie di sedimenti ma perché c'è il porto perché se non ci fosse il porto giustamente Gaia prende porta giù la frana la trasforma in sedimenti li trasporta ripasce quello che deve ripascere crea le sue dinamiche morfologiche non domanda mica il permesso a noi non domanda mica il permesso al pesce non domanda mica il permesso alla formica tanto per parlare di esseri viventi sulla faccia della terra e dei loro habitat se è del caso gli girano le scatole distrugge i formicai avete mai visto una piena di un wadi in Africa l'avete mai vista durante le grandi piogge e non è che guarda molto agli habitat anzi la dinamica degli habitat nei wadi tiene conto sostanzialmente si adatta ai processi di piena fatti in quel modo allora perché io ho voluto questo incontro tutti assieme sul consumo di suolo non solo per parlare del consumo di suolo ma per agganciare il consumo di suolo al suolo e alle dinamiche complessive con cui dobbiamo guardare e con cui questo deve diventare un paradigma da tutti i punti di vista ma credo che questo sia il massaggio innovativo anche alla politica anche alle istituzioni anche al governo in cui non si può guardare settorialmente ma bisogna quantomeno arrivare a quel bilancio complessivo che è anche bilancio ambientale e allora si può parlare di tutela del patrimonio naturale e sviluppo sostenibile in termini anche misurabili e quantificabili scusate questa mia digressione ma ci tenevo assolutamente a darvi questo tipo di informazioni bene grazie non era per questo allora non ho nessun elenco di partecipanti però prima dell'elenco di partecipanti un dovere sulla seconda fase che naturalmente abbiamo anticipato alla prima perché stiamo andando all'impronta come sempre anche nelle presentazioni di partecipanti